ciao qui eliprandi ciao a tutti questa sarà una chiacchierata senza copione quindi ci saranno un sacco di papere e di gas esatto faccio una piccola premessa su questa chiacchierata cercheremo di non farla sembrare una predica e soprattutto chi ci conosce più da vicino come rock way nottoni conosceranno già gli argomenti che andremo a toccare però effettivamente li mettiamo in video perché ci è stato chiesto nei commenti dove o come orientarci per comprare giocattoli vecchi per le nostre collezioni esatto ci è stato chiesto più volte perché noi abbiamo esposto la nostra collezione su youtube ci sono tantissimi altri collezionisti che hanno collezioni splendide e quindi diciamo che non ci sentiamo di insegnare niente a nessuno però siccome ci è stato chiesto noi dove consigliamo di comprare i giocattoli vecchi beh allora questo video è dedicato alle persone che hanno fatto questa domanda cercheremo di mettere nel video un po' di consigli pratici dove trovare che cosa trovare ora ma anche qualche linea guida su come ragionare in generale per collezionare giocattoli vecchi sì una premessa che ci sentiamo di fare è che noi praticamente mai a parte delle tremendo paio di occasioni abbiamo comprato giocattoli come investimento pensando beh lo prendo a poco e poi lo rivendo perché fondamentalmente compriamo i giocattoli che ci piacciono e lo stesso motivo per cui rarissimamente abbiamo dei doppioni da vendere esattamente compriamo direttamente quello che vogliamo in realtà non li abbiamo neanche quasi mai comprati per collezionarli non li compriamo proprio perché abbiamo voglia di giochi chiaro c'è una sciocchezza ma il motivo per cui abbiamo comprato i men e scheletro è lo stesso identico per cui compriamo i gormiti sì 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 ci sono alcune cose che abbiamo comprato più per il senso della storia del giocattolo ma si tratta di appunto il monopoli degli anni 30 o il major mad mason che hai paura a toccarlo perché si rovina il il grosso il 90 per cento della nostra collezione è stato comprato per giocarci indistintamente cioè da ovunque venisse qualunque fosse l'anno di produzione detto questo qual è il segreto per trovare i giocattoli vecchi a buon prezzo non abbiamo una risposta a questo esatto fondamentalmente io mi rendo conto che alcuni di voi conoscono qualcuno che hanno letto in giro ci sarà ancora in giro qualche cavo pieno zeppo di fondi di magazzino però non li conosciamo cercare tesori del genere significa perdere in realtà tempo esattamente la speranza di trovarne sì è come vincere alla lotteria non solo nel momento in cui venisse divulgato quel segreto tutti gli oggetti contenuti nel container tornerebbero ad avere valore che hanno i simili oggetti presso i collezionisti e appena quella quell'oasi di giocattoli vecchi venisse rivelata state tranquilli che qualsiasi siano le condizioni in cui versete voi c'è qualcuno che ha più tempo e più soldi di voi quindi è inutile inseguire sogni di questo tipo quindi parlando di persone che siano nella nostra condizione cioè quella di non avere nessun contatto particolare diciamo che prima di tutto mi sentirei di dire anzi ci sentiamo di dire che il segreto che non è un segreto perché è solo qualcosa qui potrebbe arrivare chiunque è il tempo si non non parliamo di tempismo cioè a precipitiamoci appena esce in vendita il tempo no diverse sfaccettature del tempo l'idea di fondo è questa siccome fondamentalmente quando ci viene posta questa domanda e lo vediamo anche dai numeri che hanno i nostri video si parla delle serie più popolari del passato stiamo parlando quindi di marchi ben noti che sono noti adesso oppure che lo sono stati in passato quindi non parliamo di giocattoli che nessuno non conoscevamo li abbiamo scoperti adesso li vogliamo stiamo parlando di qualcosa che era forte presente nei nostri ricordi in questo caso beh ovviamente se noi per andare a cercare un vecchio giocattolo aspettiamo che ne stiano parlando tutti gli altri partecipanti alla community dei connessisti di giocattoli non abbiamo più speranze di trovarla poco perché se tutti quanti lo stanno cercando il suo prezzo aumenta vale a dire se noi per andare a cercare una vecchia linea di giocattoli aspettiamo che torni ad essere in voga o perché tutti quanti ne sono nostalgici o perché chi possiede attualmente quel marchio ha pensato di farne un reboot non è il momento per comprare quel giocattolo ormai è tardi fondamentalmente l'idea è che se vi interessa qualche vecchio giocattolo che ricordate nel vostro passato dovete andarlo a cercare senza aspettare che piaccia anche agli altri ovviamente se volete trovarlo a buon prezzo allora io su questo penso che potrebbe essere utile fare una breve cronologia della nostra collezione la collezione liprandi a me piace chiamarla così ha avuto fondamentalmente tre fasi noi abbiamo iniziato a collezionare tra virgolette conscientemente giocattoli quando io ero alle superiori direi ok con la paghetta di papà e mamma in sostanza stiamo parlando della prima metà degli anni 90 esattamente perché lui ha 44 anni io 40 esatto e e i nostri soldi venivano spesi in due modi qualche giocattolo al toy service sì sì era un negozio di giocattoli c'è ancora ma ha cambiato nome esatto come dire toy saras come dire toy scarpe esatto un negozio di giocattoli cioè insomma dove troviamo i giocattoli per i bambini contemporanei erano gli anni di batman cartoni ad esempio noi compriamo batman cartoni comprano super mario bros sì avete visto i play set che abbiamo recensito che oggi è costoso noi abbiamo comprato a 19 mila lire su al toy service perché nessuno lo voleva ci piaceva contemporaneamente era il periodo in cui stava iniziando in stato embrionale a svilupparsi il mercato dei giocattoli per collezionisti action figure una tiratura limitata tratte da fumetti oscuri come wario nana real sì è quel mercato che è stato aperto diciamo dalla todd toys che poi è diventata esatto fondamentalmente cosa succede in quegli anni c'erano alcune pubblicazioni soprattutto il toy fair wizard americane sono le più popolari in cui vedevi tutte le nuove uscite tutte le nuove uscite vuol dire sia i giocattoli dal supermercato della toy biz sia la roba più per collezionisti e noi da bravi ragazzini adolescenti tutto quello che potevamo tutto quello che era tiro in paghetta lo compravamo sì ci lasciavamo convincere da questa forma di marketing è quello che succedeva fondamentalmente capitano due cose uno di quella roba lì in realtà non aveva più niente perché no perché poi ci siamo resi conto che non ci interessavano ma continuavamo a prendere quella roba rendendoci conto che tanto le nostre fantasie rimanevano quelle della pubblicità del topolino dei food fighters i fumettini scritti sulle pubblicità dei masters sul topolino i play mobile tutta questa roba qua quindi stavamo in realtà continuando a comprare roba senza colmare senza soddisfare le nostre richieste quello che volevamo all'epoca noi non è che potessimo girare più che tanto eravamo adolescenti o molto giovane peraltro non c'era internet perlomeno noi non ce l'avevamo non famiglia ricca in affitto tutti in una camera non è che si potesse spendere un sacco di soldi in giocattoli come è normale che sia ovviamente succede che quando ho iniziato a lavorare ho iniziato a ragionare diversamente su come andassero spesi i soldi e quindi con le prime paghe dei primi lavori che ho fatto iniziamo a comprare cose un po più mirate erano gli anni sia dei masters del 2000 che compramo altri service come tutti gli altri ma erano gli anni di altri acquisti per esempio con una delle prime paghe fosse quella del servizio militare e lo comprai i masters questi cosa succede contestualmente noi avevamo a disposizione internet e si stava diffondendo l'utilizzo di ebay quindi questo è stato determinante per noi perché prima di allora noi abbiamo sempre cercato i giocattoli della nostra infanzia solo che non si trovavano più ad esempio lei e peter della prima serie di real ghostbusters noi li trovammo in un negozio lo stesso lo abbiamo trovato quel place del micromachine li pagammo 10.000 lire credo che fosse potrebbe essere i 2000 erano gli ultimi tempi della lira li abbiamo comprati appena li abbiamo trovati li avessimo trovati prima e avessimo avuto i soldi in tasca li avremmo presi prima naturalmente con internet abbiamo potuto affacciarci sul mondo intero ci saranno un po di stacchi interruzioni come queste comunque dopo questa fase in cui abbiamo cercato i giocattoli che avremmo sempre voluto ma prima di allora non eravamo riusciti a procurarci interrompo soltanto per dire che sono le sedie principali per noi erano i masters i tartos degli anni 80 e di real ghostbusters e marco all'età di molti di voi e dell 82 io sono del 78 non è che fossimo dieci anni più vecchi quando ci sono svegliati semplicemente che siccome mi piacevano i giocattoli stessa cosa per paolo appena ho avuto un lavoro beh i soldi in più che avevo li spendeva in questo abbiamo cercato loro anziché cercare in quegli anni la gente potrebbe essere interessata in marvel legends c'è stato quel periodo in cui tutti producevano pupazzetti realistici di robocop esatto via tutti siamo lasciato perdere tutta quella roba per concentrarci invece sui di a ghostbusters e in realtà con occasioni perché siccome il pubblico era distratto e seguiva i marvel legends piuttosto che la neca eccetera nessuno pensava ai di a ghostbusters e noi li abbiamo pagati un lotto erano 80 euro tutti e quattro i primi della prima serie kennel non le ristampe ovviamente 36 euro lo scatolone di fabbrica con dentro una 30 euro mini si ho preso dalla germania tutti gli ghostbusters della ken insomma time heroes eccetera erano gli anni in cui i collezionisti c'erano solo che stavano cercando quello che all'epoca produceva la neca e via dicendo l'equivalente di master vers di oggi stessa roba la gente stava comprando quello e quindi noi indisturbati ci siamo accaperati i ma i transform super powers della ken e li abbiamo aperti tutti noi li abbiamo pagati una media di 15 20 euro l'uno chiuso nel pacchetto i secret words della mattella il castello di doom nuovo in scatola 9 ore 90 i personaggi 2 euro e 90 in blister chiusi 15 anni fa e ripeto 15 anni fa eravamo già adulti collezionisti e molti di quelli che ci seguono anche lo erano beh 15 anni fa su ebay c'era un tizio che continuava a caricare lotti di flash di super powers della ken e costavano tipo 2 euro l'uno a decine e insomma per dire noi eravamo ben contenti che tutti gli altri comprassero assolutamente perché fondamentalmente e adesso siamo contentissimi che tutti compriati i master vers perché noi compriamo quello che vogliamo noi e fra dieci anni voi cercherete senza cattiveria questo è il ragionamento le cercherete gli stappi di quello che ci siamo comprati noi adesso e l'abbiamo visto succedere un po di volte questo questo movimento se è ancora disponibile vi metterò giusto per farvi la sorpresa il link a un robocop kenner versione americana con i rotolini completo perfetto a un euro esatto ma adesso tutti stanno comprando la versione neca che imita quello kenner c'è quello reaction che imita quello kenner quello che nel vero va a un euro e nessuno lo vuole esattamente questo lo diciamo perché spesso parlando delle ristampe dicendo ma insomma spesso chi compra la ristampa presenta il vintage come qualcosa di troppo caro in realtà no lo è adesso perché è uscita la ristampa ma siccome tu ricordi questo marchio da quando eri bambino te lo ricordavi dieci anni fa dieci anni fa il vintage l'avresti pagato molto meno lui mi è costato praticamente quanto oggi comprate un pagato un voyager è un prima versione primus prime quello del 34 50 euro lui ecco in scatola non era nuovo è usato in ottime condizioni perfetto alle istruzioni a tutto insomma il punto è questo noi sappiamo perfettamente ciò che ci piace e cerchiamo quello e non ci interessa che qualcun altro lo stia cercando o che sia popolare fondamentalmente anzi meno popolare è più è facile trovarlo a un buon prezzo dopo questa fase in cui ci siamo procurati ciò che avremmo sempre voluto in realtà sempre grazie ad internet abbiamo continuato a sviluppare una curiosità che portavamo avanti dagli anni 90 quando compravamo le riviste di giocattoli esattamente cioè il fascino della scoperta di vecchie linee di giocattoli che noi non conoscevamo quindi linee per le quali non possiamo provare nostalgia perché non fanno parte del nostro passato ma sono giocattoli ci piacciono i giocattoli e linea anche stupenda abbiamo scoperto un mondo di giocattoli che non conoscevamo questo in realtà lo dico brevemente questa è stata la molla che ci ha spinto ad aprire il canale cioè siamo sinceramente convinti che la parte fruibile di un canale come il nostro dovrebbe essere vedere i giocattoli che non conosciamo ancora più che rivedere quelli che già conoscevamo e quando vedete qualcosa che conoscevate lo abbiamo ripetuto mille volte ma è vedere quello vero e sono stufo di vedere recensioni a tonnellate delle distampe asbro dei ghostbusters sì per carità diciamo che c'è questo paradosso nel mondo dei collezionisti in cui fondamentalmente tutto ciò che si chiama vintage nostalgia è una presentazione di prodotti che sono attualmente in fabbrica ed è un paradosso noi recensiamo l'ecto 1 degli anni 80 a kennel e ci chiedono puoi recensire quell'asbro che è uscita adesso ma quell'asbro al supermercato quando vuoi quell'asbro è la ristampa anzi non l'ha voluta nessuno te la tirano dietro in francia cinque oro l'uno in ghostbusters rendiamoci conto comunque sia e passi siamo passati quindi a questa fase in cui abbiamo cercato i giocattoli vecchi ma non solo giocattoli che ci piacevano e che ancora non conoscevamo e naturalmente qui youtube con recensioni dagli stati uniti o dall'inghilterra qualunque cosa mi piacciono molto gli action force ad esempio anche sono un tema militare che non mi piace tanto ma come realizzato il pupazzetto mi piace tanto insomma abbiamo scoperto linee di giocattoli le abbiamo cercate e questo era per concludere il discorso non conosciamo un pozzo dove ci sono i giocattoli vecchi a buon prezzo ma di sicuro se voi state cercando una linea di giocattoli nel momento in cui è così tanto pubblicizzata e così tanto pubblicizzata e ricercata tutti i collezionisti beh ovviamente adesso a buon prezzo non la trovate più vi siete svegliati tardi se vi piaceva era meglio cercare la prima significa anche però che se vi interessa qualche linea di giocattoli di un passato non così lontano che ancora non è stata rilanciata nel mondo dei collezionisti compratela adesso adesso non aspettate che ne stiano parlando tutti per far parte della carovana vi piacevano gli street sharks già costano e ormai già sono inarrivabili esatto ma vi piaceva che ne so captain planet vi piaceva benten benten muovetevi ora fra dieci anni diciamo che sarà inarrivabile qual è la qual è la parabola di questo mercato parabola perché poi c'è anche una fase di discesa fondamentalmente la maggior parte dei collezionisti di giocattoli è laureato in matematica sono la maggior parte dei collezionisti di giocattoli in realtà in questa quello che sto per dire non ci riguarda però una buona parte di questo mondo è guidato dalla nostalgia non è un mistero tantissimi canali simili al nostro hanno scritto nostalgia nel titolo quindi è la nostalgia che guida da cosa arriva questa nostalgia dall'età quando abbiamo 30 40 anni non abbiamo più l'entusiasmo della libertà di un adulto iniziamo a sentire il peso dell'essere adulto con le sue responsabilità inizia a mancarci la leggerezza di quando eravamo bambini tutto ti sembra più bello e cerchiamo i giocattoli di quando eravamo bambini al tempo stesso sono gli anni in cui inizio a lavorare quindi hai due soldini da spendere non hai ancora dei figli e finisce che li spendi cercando di andare a ripescare i pezzi che puoi del tuo passato ed è questo che ciclicamente fa salire i prezzi delle serie di una ventina d'anni prima esattamente quindi infatti noterete che i collezionisti che oggi hanno una cinquantina d'anni collezionano i robot giapponesi chi ha l'età di paolo è un po' sui robot un po' sui primi anni 80 masters chi ha la mia età va un po' sui masters ma inizia ad andare sugli anni 90 chi ha 30 anni va su bambini direttamente sugli anni 90 o anche power angels quindi fondamentalmente quando scattano i 30 35 anni inizia il pallino del collezionista questo cosa significa che i giocattoli che iniziano a diventare cari sono quelli con cui giocava chi oggi ha 30 35 anni esatto se vi interessa un giocattolo di 20 anni fa prendetelo adesso perché tra dieci anni i collezionisti lo cercheranno e diventerà molto caro fra dieci anni chi sarà adulto e inizierà a spendere i propri soldi nella nostalgia ricorderà di quando da bambino giocava con i gormiti e ventenne non con i masters perché non saprà proprio chi erano i men e schenetor quindi per esempio gli origins che oggi comprate non verranno nulla allora perché non avranno più l'amore di nessuno fondamentalmente tutto il mercato degli origins cioè tutte le persone che sono interessate a possederli le hanno comprati adesso e perché in futuro non li vorrà nessuno in più non denigro la linea non li ho comprati solo perché qualcosa devo scegliere sono carini però non sono non cresceranno di prezzo come sono cresciuti i vecchi perché i vecchi sono cresciuti grazie alla nostalgia il fatto che fossero giocattoli significa che la maggior parte di loro hanno fatto una brutta fine quindi diventano anche sempre più scarsi mentre ciò che viene prodotto oggi per gli adulti nostalgici non viene giocato non avrà un nuovo pubblico non avrà un nuovo pubblico è già lui figlio delle nostalgie è già figlio delle nostalgie chi potrebbe volerli li ha comprati oggi non li ricomprerà fra vent'anni magari per un mutuo o per un altro motivo fra dieci anni li rivenderà ma troverà poca gente disposta a comprarli se ne hanno comunque come nuovi perché un adulto non si è giocato quindi gli oggetti nati per il mercato dei collezionisti non sono destinati a crescere vertiginosamente di prezzo come accade per il vintage e fondamentalmente se vi piacciono quelli comprate quelli nulla da ridire se vi piace il vintage comprate il vintage è troppo caro? è troppo caro perché avete aspettato che non uscisse la ristampa se voi lo comprate semplicemente perché vi piace e non perché è partita una grossa campagna pubblicitaria siete ancora in tempo a trovare un buon affare ok ci scusiamo per le interruzioni avevo una torta in fogo abbiamo sentito l'odore ma un po' fosse tardi allora adesso finalmente parliamo di dove compriamo i nostri giocattoli un attimo una premessa di un secondo tenete presente che noi compriamo giocattoli da quando siamo venuti al mondo quindi non è che tutti i giocattoli della nostra collezione vengono da dove siamo per dirvi in realtà nel corso di trenta e passani sono successe tante cose varie occasioni si possono essere incontrate esattamente però attualmente dove cerchiamo i nostri giocattoli? allora cominciamo direi a sfrattare il mito dei mercatini e delle fiere mito è una questione di scopo esatto a mercatini e fiere potete trovare delle occasioni lui in sostanza è l'equivalente di quello un negozio che stava chiudendo il mese scorso abbiamo comprato un Rocklords molto carino ci piacciono tantissimo a 5 euro al balloon qui con Matteo che immagino guarda questo video e forse è l'unico che riuscirà a sopportare mezz'ora di video quindi parliamo con te Matteo però fondamentalmente cosa succede? a mercatini e fiere è possibile trovare degli affari migliori di quelli che si trovano online però tanto per cominciare è difficile trovare quello che state cercando esatto cioè se voi in generale siete appassionati di giocattoli andando in un mercatino probabilmente troverete qualcosa che vi piace e questo è sicuramente una cosa carina da fare e divertente ma se state cercando un giocattolo in particolare o una linea in particolare la speranza di trovarla andando in un mercatino è molto scarsa quindi non è un modo efficiente di cercare il vostro giocattolo esatto se voi state cercando in particolare i Biker Mice o gli Street Sharks è quasi impossibile che andando in un mercatino troverete esattamente la serie che vi interessa magari esattamente il pezzo che vi manca inoltre al mercatino quando ci vai devi avere tu la coscienza e già la conoscenza di come un pezzo si deve presentare sapere se è completo, intero, funzionante e così via anche questo non hai internet così a partire di mano quindi si tratta di girare tantissimo in realtà spendere anche soldi per il viaggio eventualmente per il biglietto d'ingresso tempo tanto, tanto, tempo quindi se avete una ricerca mirata in mente credo che mercatino e fiera non siano il modo efficiente di perseguirla perciò parleremo del mercato online del web il mercato del web ha che in alcuni contesti siccome è il mercato di preferenza dei collezionisti i prezzi tendono a lievitare un po' naturalmente comunque non ho trovato tutta questa differenza fra internet e i mercati francamente no siamo andati a Novegola ad esempio che è un mercato splendido ma i prezzi erano quelli di ebay a parte soprattutto i prezzi erano quelli di ebay sugli oggetti ricercati dai collezionisti abbiamo trovato affari su ciò che non interessa i miei collezionisti e quindi non cose che stavamo cercando miratamente mi è capitato sotto gli occhi era molto carino ho voluto prenderlo quando decidete di comprare online innanzitutto dovete sfruttare le potenzialità che internet vi offre sia dal punto di vista dell'informazione quindi fate attenzione a comprare un oggetto reale e non di stampa fate attenzione che quello che state comprando sia intero e che valga veramente quello che vi viene proposto ad esempio non voglio mettere in dubbio la buona fede dei venditori in generale a prescindere ma informatevi per conto vostro se l'oggetto in vendita è completo non chiedetelo al venditore non è detto che lo sappia non andate a colpo d'occhio perché se vi metto a colpo d'occhio questi email è commemorativo pochi sapranno distinguerlo da una fotografia così piccola ad esempio andateci piano documentatevi molto e soprattutto approfittate dell'altro aspetto di internet quello di accorciare le distanze non si tratta di dover comprare qualcosa che sta al massimo 50 km da casa vostra ma può arrivare dall'altra parte del mondo è così che ci siamo procurati tantissimi di nostri giocattoli o perché qui non c'erano e quindi non li conoscevamo nemmeno oppure perché l'occasione è capitata in un altro posto in realtà proprio per come è fatto il mercato e per come era fatto in passato ogni linea di giocattoli facilmente ha una nazione in cui è più economica che in un'altra per motivi vari distribuzione, produzione ma vi diamo un esempio pratico noi non ne abbiamo nessuno in realtà ma una serie che entra nelle corde di Marco sarebbero i famosi patumeros di fine 80 per qualche motivo i patumeros sono piuttosto costosi in giro per il mondo tranne che in Spagna stanno salendo anche lì ma in Spagna costano un terzo di quello che costano altrove quindi concentratevi su siti spagnoli stessa cosa vale anche in Spagna costavano abbastanza meno che altrove i Ghostbusters della Filmation sono un po' meno costosi se non vi interessa avere il pacchetto Jig che fondamentalmente per noi non ha nessun significato lì è possibile trovarli a meno l'automobile dei Flintstones in action per lo stesso motivo viene dalla Spagna quindi dove li prendiamo? siti internet parlando di giocattoli vecchi chiaramente non stiamo parlando di Amazon fondamentalmente il colosso principale è ebay ed è anche un sito che funziona egregiamente per dirla tutta è affidabile una menzione lavale non so neanche se esiste ancora noi non siamo mai riusciti ad utilizzarlo Yahoo Japan per chi colleziona vecchi giocattoli anni 70 giapponesi non so se esiste ancora una volta c'era questa leggenda per lo meno sulla possibilità di acquistare cose che in Europa erano sconosciute o rarissime solo che era complesso bisognava avere un gancio per le spedizioni ebay invece è facilmente utilizzabile da chiunque ebay ha aperto a tutti è comodo quindi tolto ebay che diciamo che se noi stiamo cercando un giocattolo il primo posto in cui andiamo a guardare esattamente e lo consigliamo anche a voi di nuovo ebay ricordandoci che non esiste solo l'Italia esatto questo è fondamentale cercate in tutto il mondo fate i conti con il fatto che se comprate da fuori dalla comunità europea pagherete la dogana ma in realtà tanto bene o male alla fine sì insomma più o meno in modo nell'altro i prezzi però sono quelli quello è uno esiste un sito italiano di cui abbiamo parlato già tantissime volte noi siamo iscritti da molti anni giocattoli vecchi è una comunità di collezionisti che hanno collezioni mostruose cioè sì molto più ricche della nostra lì trovate giocattoli di quelli di fascia alta spesso e volentieri comunque sia è un sito di collezionisti in cui potete trovare valutazioni ottimi affari a volte lì abbiamo conosciuto quello che si faceva chiamare dal strife su quel sito Clemente con lui abbiamo concluso degli affari splendidi pazzeschi in generale una differenza tra ebay e giocattoli vecchi è che quando acquisterete su giocattoli vecchi avrete a che fare con una persona abbastanza competente sulle materie dell'altra parte potete darlo per scontato su ebay si trovano molti mercanti e molti privati che svendono giocattoli vecchi è una comunità di collezionisti di giocattoli esatto vale la pena nominare a questo punto già che ci siamo io ho acquistato diversa roba lì Bricklink che è forse il miglior sito per acquistare Lego vintage ed è un sito credo europeo non è in italiano si trovano cose incredibili tipo giocattoli Lego dagli anni 50 non ci vado da tempo adesso non vorrei dire sciocchezze ma se non sbaglio è stato comprato da Lego non lo so sono cambiate le cose negli ultimi anni però Bricklink era un ottimo sito ad esempio in realtà il primo set Lego ad includere la minifigure la macchina della polizia la pagammo 7 euro si esattamente è aperta ma in ottime condizioni con gli adesivi ancora da mettere adesivi ancora da applicare 7 euro spettacolo ed è un pezzo di storia c'è un sito che è molto poco conosciuto ma su quale si trovano ottimi affari proprio per la questione geografica di cui parlavamo prima un sito spagnolo Todo Collection semplice non è ben strutturato come ebay ma funziona ci abbiamo comprato molte volte serie abbastanza sconosciute però forse il motivo per cui iniziai su Todo Collection sono gli RP2 Fados gli RP2 Fados gli abbiamo anche recensiti ecco quelli ad esempio a me piacciono un sacco non li vuole nessuno quindi non li abbiamo pagati molto molto belli una serie di action figure dei puffi degli anni 80 gli abbiamo recensiti sono qua sul canale se qualcuno fosse molto curioso lì su Todo Collection abbiamo comprato ad esempio non abbiamo mai recensiti ma a me piacevano un sacco una serie di tarocchi dei mostruovi che venivano dati in regalo con le sorpresine Foschitos con le meredine Foschitos in Spagna bellissime molto carine come sorpresine robe che fuori dalla Spagna sarà molto difficile trovare Todo Collection vale la pena dargli un'occhiata però ve lo mettervi tutti questi link in descrizione qualcosa che è più difficile da linkare ma abbiamo tutti Facebook su Facebook è pieno di gruppi a tema sul mercato dei giocatori vecchi e anche sulle serie specifiche e quasi sempre c'è un mercatino nel gruppo e lì si possono concludere ottimi affari anche in questo modo noi ci siamo procurati giocatori che altrove abbiamo preso i tarocchi di Street Fighter quelli a forma di Joypad del Super Nintendo vengono da lì anche i nostri tarocchi di Mortal Kombat 8 pollici della Paco bellissimi anche se lì è andata più di di fortuna Matteo buona attenzione però capita allo stesso modo ci siamo procurati un po' di cose insomma un po' di di giocattolini che arrivano in quel modo quindi Facebook e alla fine arriviamo penso a Vinted l'ultimo arrivato in questa famiglia Vinted e Wallapop che è il parallelo spagnolo esatto Wallapop mi sta proprio lì ho avuto l'impressione che funzionasse anche un po' peggio però cosa succede? come vanno utilizzati Vinted e Wallapop sono siti piattaforme utilizzate principalmente da chi vuole svuotarsi l'armadio e che non ha conoscenza di internet esatto sono usati soprattutto da chi trova ebay troppo difficile nella sostanza è quella sì questo lo dico perché è importante sapere chi vi sta vendendo qualcosa per sapere cosa vi potete aspettare esattamente questo è per dire che se voi andate su Vinted e Wallapop siccome si stanno divulgando come piattaforme troverete anche il Vintage vi troverete lì meno lo scheletro di turno ma chi lo vende? il collezionista che ne conosce il valore quindi se volete comprarlo lì non c'è niente di male ma non troverete chissà che grandi affari non troverete affari diversi da quelli di qualsiasi altro sito dovete concentrarvi soprattutto lì su quella fascia di giocattoli che non è ancora nell'occhio dei collezionisti esatto praticamente il genitore che sta liberando la cameretta del figlio è ormai cresciuto e vende ad esempio le Tartoroga Ninja del 2012 se l'animata brillante linea di giocattoli che ha avuto un bel successo se non ne avete guardate ve le suggerisco sia come cartone animato sia come giocattoli bellissimi il playset pizza è un giocattolo ci sono dei bellissimi giocattoli siccome ha venduto piuttosto bene ed è un titolo quello del Tartoroga Ninja che continuerà ad andare avanti anche tra di noi adulti non escludo che presto crescano di prezzo anche loro così come sta già succedendo ai masters dei primi 2000 beh siccome fanno ancora parte di quelle camerette di bambini che hanno smesso di giocarci 5-6 anni fa noi quanto abbiamo pagato per questo furgone 25 euro lui nuovo in scatola con 3 personaggi ottimo oppure forse era su facebook ma il tipo di abbiamo preso un camion di Ben 10 con un mucchio di personaggi era 40 euro era un vagone di giocattoli era il Ben 10 l'ultima edizione quella Playmates però ah ci sta tutte le moto però per dire questo è secondo noi il tipo di oggetti che possiamo trovare su Vinted e Wallapop quindi i giocattoli degli ultimi 15 anni fondamentalmente perché i genitori li stanno rivendendo i figli non ci giocano più non stiamo suggerendo a nessuno di pensare a investimenti economici non è il nostro modo di vedere i giocattoli ma se vi piacciono i giocattoli beh sappiate che se vi piace un giocattolo di 10 12 anni fa è possibile che lo troviate su Vinted e Wallapop ad un buon prezzo e giusto abbiamo detto Wallapop è per lo più spagnolo quindi se cercate i giocattoli popolari in Spagna come David Gnomo che era un giocattolo credo spagnolo della Star Toys Madelman forse Madelman ce ne sono tantissimi però è così vecchio che lo cercano solo i collezionisti e quindi ha già certi prezzi Madelman 2050 gli Invisimals gli Invisimals sono più recenti credo siano spagnoli uno può cercare non ne ho mai cercati invece Vinted è per lo più francese esatto sono entrambi i siti disponibili accessibili utilizzati anche in Italia in Germania eccetera ma per qualche motivo il grosso del pubblico su Vinted è francese e il grosso del pubblico su Wallapop è spagnolo quindi se cercate Asterix Lucky Luke guardate prima su Vinted non a caso il Lucky Luke che abbiamo cercato per una vita della Lan Sai sì non solo anche esplorando il corpo umano su Vinted ad esempio abbiamo comprato una cosa divertentissima che recensiremo è un gioco da tavolo del 2005 di Esplorando il corpo umano la serie animata che hanno fatto negli anni 80 ma viene riproposta di continuo è una serie animata francese per questo il gioco viene dalla Francia il gioco è splendido il tabellone riproduce la figura del corpo umano naturalmente l'interno con le vene e gli organi le pedine sono i globuli rossi con lo zenetto vuoto e camminando caricheranno molecole di ossigeno oppure virus a seconda che rispondiamo bene alle domande di anatomia o che ci sbagliamo carinissimo come gioco 15 euro come nuovo su Vinted per me è stato un acquistone sì questo è il nostro segreto sciocco assolutamente sciocchissimo semplicemente l'esperienza che ci siamo fatti noi in questi anni per questo abbiamo tenuto a raccontarvi l'evoluzione del nostro modo di collezionare quello che vediamo adesso è uscito deve uscire la nuova versione di Etrendi eccetera andiamo a prendere quella noi abbiamo avuto la stessa fase uguale a voi 30 anni fa negli metà anni 90 esatto e ci siamo resi conto poi per carità qualcuno sarà soddisfattissimo così noi ci siamo resi conto che noi lasciavamo vuoto continuavamo a comprare quella roba ma lasciava il vuoto del desiderio dell'osfizio da soddisfare di avere in mano il giocatore se voglio il vecchio e meno voglio il vecchio e meno averlo una ristampa non colmerà quel vuoto esatto tra l'altro dal punto di vista economico se io devo scegliere adesso fra l'articolo per collezionisti della NECA che è appena uscito adesso o un pezzo vintage che ho trovato in occasione beh sappiate che il pezzo vintage dopo quell'occasione sarà molto improbabile di trovarlo sicuramente il pezzo per collezionisti fra due anni sarà ancora lì perché sarà fresco perché i collezionisti lo rivenderanno per comprare ciò che la NECA starà stampando all'epoca in futuro quindi lo ritrovate adesso è passato un po' l'onda ma si è parlato tanto di August Busters della Kenner quando noi abbiamo comprato i nostri in realtà se ne trovavano tantissimi sì allora la prima serie era più difficile ma i fried features in realtà te li tiravano dietro con 20 euro li avevi ma la prima serie era più difficile noi ne abbiamo comprate tre sedie comunque ne abbiamo due lotti completi pagati 80 euro l'uno vuol dire 20 euro a pupazzo esatto quindi in realtà li trovavi senza problemi e così le fogne tutti i playset famosi degli anni 80 le fogne dei Tartos tecnodromo per quanto riguarda il rincaro dei pezzi da collezionista io lo so che qualcuno starà pensando che l'oggetto per collezionisti il Masterverse che è uscito adesso già ci stanno sciacallando sopra è uscito tre mesi fa ma oggi costa già quattro volte tanto adesso perché chi lo compra adesso è semplicemente chi non è arrivato in tempo a comprarlo l'anno scorso o qualche mese fa quindi è ancora vivo il mercato di quello e il prezzo è salito fra due anni costerà di nuovo come quando è uscito esatto una generazione nel mondo dei giocatori dura 10-15 anni cioè il tempo in cui il bambino prende interesse in qualcosa dovete aspettare quei 10 anni e vedere cosa succederà che vuol dire che se vi piacevano i Masterverse aspettate fa 10 anni li comprenete a meno sì per quanto riguarda questo tipo di rincaro di cui parlavo anche meno di 10 anni cosa succede lo sciacallo che lo rivende a tre volte il suo prezzo di vendita originale può approfittare della situazione solo fin tanto che è fresco ricordo del primo annuncio è questione di mesi esatto poi non ci accaniamo sui Masterverse lo stesso ragionamento vale per tutto i reaction della Super 7 tutto ciò che è mirato al collezionista nostalgico esatto quindi se vi piacciono anche quelle cose prendete quello che vi pare ci mancherebbe però se dovete scegliere tra pezzo vintage per cui c'è una occasione adesso e pezzo per collezionisti e pezzo vintage non lo ritrovate quello per collezionisti sì e ripeto l'esempio degli origins che facciamo prima il giocatolino in sé non mi dispiace non lo prendo di sicuro adesso è molto facile magari che fra 5 anni quello che è qualcuno che deve fare spazio in casa che ha acceso un mutuo o che li vende per comprare qualcos'altro ne vende un lotto a 50 euro e allora arrivano in casa li prendi anche lo diciamo perché ci sono già successe in realtà appunto lui non ha detto prima a caso gli Ergos Busters e la Hasbro quelli stampati dalla vecchia Kennel a me non gli interessano li ha presi perché lui ha sempre detto avere un muletto sul cui colare lo slime senza rovinare l'originale non sarebbe male ha pagato 10 euro erano in sostanza avrei pagato 38 euro e l'otto da quattro poi alla fine in realtà non ho pagato manco quello gratis però fondamentalmente 10 euro l'uno e sul pacchetto avevano lo sticker del supermercato francese dove vengono venduti a 5 euro l'uno sì perché è solito discorso che noi come collezionisti se voi cercate questa è l'ultima dritta che posso dare se voi cercate un oggetto all'interno della comunità comunità in cui tutti lo stanno cercando sapete che lo pagherete di più costerà di più questo lo dico perché gli Origins quei pupazzetti della Hasbro Hasbro e Mattel sono compagnie grandi quindi le hanno distribuite anche nei supermercati sappiate che il personaggio che voi avete pagato 50 euro su internet al target in svendita negli Stati Uniti adesso è a 3 dollari quindi non 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 chiedete all'osse se il vino è buono non guardate per carità visto che abbiamo visto sei venire a galla anche sto dubbio il Origins che comprate dal supermercato è esattamente identico a quello che comprate su Amazon o a quello che comprate dal negozio sono stampati in Cina poi sparati in giro è esattamente lo stesso oggetto non c'è differenza assolutamente ovviamente allora abbiamo fatto un video lunghissimo lunghissimo però siccome abbiamo ricevuto più volte la domanda dove comprate i vostri giocattoli qual è il segreto l'occasione questo è ciò che abbiamo da dire a riguardo una chiosa finale è vero prima di internet prima del diffondere di internet c'erano occasioni in cui si compravano lotti enormi a 4 spicci internet ha portato tanta visibilità ma ha anche fatto levitare i prezzi perché ha portato informazione adesso è difficile che qualcuno vi venda un Voltron vecchio senza sapere che è il Voltron vecchio esatto detto questo però questo non vuol dire che sia finita la pacchia e che non si trovano più occasioni non si trovano più occasioni sui master su Voltron troverete le occasioni su roba che ha 10 o 15 anni esatto non trovate occasioni su ciò che tutti conoscono esatto e su ciò diciamo che più è vecchio più è facile che la sua popolarità sia arrivata alle orecchie di chi non è esperto insomma quindi buona caccia se vi piacciono i giocattoli pensate che vi interessano i giocattoli e non ve ne frega niente del brand o di che cosa stiano cercando gli altri collezionisti in linea di massima ad allontanarvi dalle mode e allontanarvi dalla moltitudine della gente ci guadagnate sempre si 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 guardate quello che piace a voi nessuno può dirvi che cosa vi deve piacere esatto detto questo siete tutti morti di noia adesso se il video vi è piaciuto ne sono certo potete cliccare qui su mi piace si saranno divertiti un sacco di ogni erocchi che sentono tutti i giorni queste storie è come andare a trovare qualcuno in ospizio per loro scriverci su whatsapp e poi invece qui sul borino blu di brandi che da queste parti troverete centinaia di altri video come questo da non perdere bello ce n'è uno dove diciamo che non ci sono più le stagioni di una volta certo e uno sulla vecchia lira esatto uno sulla vecchia lira a presto ciao ciao a tutti